Appuntamenti quotidiani con gli operatori sanitari, i movimenti e aggregazioni legali della diocesi di Sumuna Valva, il mondo del lavoro, le famiglie, gli operatori Caritas e di altre associazioni di beneficenza. La comunità di Popoli scalda i motori per accogliere le spoglie del Santo Nunzio sul Prizio che arriveranno il prossimo 12 novembre. Il santo nativo di Pesco Sanzonesco ha proprie origini popolesi. Da qui l'idea di far riscoprire questa figura alla comunità dopo la canonizzazione di qualche settimana fa in città del Vaticano da parte di Papa Francesco. Il programma prevede per lunedì prossimo, 12 novembre alle 17, l'arrivo delle spoglie in via Garibaldi. L'urna del Santo sarà accompagnata in processione fino alla chiesta di San Francesco. Alle 18 Don Mauro Pallini, rettore del santuario di Pesco Sanzonesco, celebrerà una santa messa solenne. L'urna con le spoglie di San Nunzio sul Prizio resterà a Popoli fino a domenica 18 novembre. Durante i sei giorni di permanenza dell'urna della cittadina sono previsti una serie di incontri. La peregrinazio dell'urna con le spoglie del giovane Santo, che morì 19 anni a Napoli, è significativa ricordando che Santo proprio a Popoli venne cresimato. Infatti i genitori portarono San Nunzio nella chiesa parocchiale di Popoli nel maggio 1820, quando aveva appena tre anni, e approfittando della presenza dell'allora vescovo della diocesi di Sulmona Francesco Tiberi, in visita pastorale, chiesero per lui il sacramento della cresima. Uno dei pochi momenti lieti del Santo, che molto soffrì a causa di una malattia contratta, quando giovanissimo cominciò a lavorare come Fabbro Ferraio, già orfano di padre e madre.